bentornati sul canale oggi andiamo a vedere come installare una piscina fuoriterra e soprattutto vi farò vedere come mantenerla pulita e quali accessori servono per appunto mantenerla in questo stato per tutta la stagione quindi adesso seguitemi fino alla fine per vedere come tenerla così vi lascio anche il link del fenicottero ok la prima cosa da fare quando si installa una piscina e livellare il terreno io l'avevo già abbastanza livellato e adesso provvedo a togliere tutti gli oggetti appuntiti come possono essere sassolini o radici poi quest'anno ho deciso di stendere un telo verde di prato finto comunque per riuscire a proteggere il fondo della piscina e non danneggiare il liner a questo punto posso aprire la piscina e stenderla bene ho anche tirato fuori tutti i tubi dalla confezione e come possiamo vedere dal disegno di destra c'è un senso di come vanno montati giustamente quindi tutte le aste sono segnalate con delle lettere sulle estremità quindi come possiamo vedere dal disegno bisogna seguire questo schema e io inizio proprio ad appoggiarli in posizione in modo da non sbagliare dopo il montaggio per facilitare il montaggio e soprattutto lo smontaggio a fine stagione inserisco del talco nel liner per evitare che i tubi si incollino con il caldo cosa che mi è successa già l'anno scorso l'anno precedente infatti con il caldo forte la plastica può fondersi sui tubi in acciaio però devo dire che la garanzia Intex ha risposto e mi hanno inviato un telo nuovo l'anno successivo quindi garanzia funziona perfettamente assistenza clienti al top bene io inizio dall'angolo ma si può iniziare da qualsiasi parte del del telo comunque ci sono quattro angolari a cui va installati dei dei pin bianchi che servono a tenere ferma la struttura la stessa cosa viene fatta su tutti i lati della struttura appunto come possiamo vedere i tubi sono predisposti con dei fori a cui vanno inseriti questi questi chiodini di plastica adesso vado ad installare le gambe anche queste sono tutte l'incastro quindi semplicissime da montare non possiamo vedere il procedimento è veramente semplice quindi anche le gambe hanno da appunto dei chiodini già da incastro e si monta tutto perfettamente in una mezz'oretta quindi è molto semplice da montare la piscina è consigliabile farli in due persone però possiamo vedere io sono fatta benissimo che da solo con con la mia piccola aiutante e adesso si procede così per tutta la tutta la linea della piscina l'ultima cosa importante legare la parte inferiore appunto alle struttura vado a mettere gli ultimi chiodi e possiamo vedere che la piscina è montata come possiamo vedere da quando ho iniziato a riempirla adesso le pareti si sono già rimesse in verticale quindi non c'è da preoccuparsi se le parti centrali sembra che collassano verso l'interno perché dopo con la pressione dell'acqua tenderanno da sole ad aprirsi quindi è assolutamente normale adesso andiamo a installare la pompa e poi vediamo come eliminare queste schifezze lì abbiamo un innesto del tubo dove c'è un più è un altro innesto un po più alto quindi questo con la sua presa d'aria va messo nella parte più alta tra le due quindi di qui la pompa ha un più è il più che si collega a quello quindi questa parte qua va collegata sotto di conseguenza l'altro tubo lo colleghiamo sopra prima di togliere i tappi andiamo a montare il filtro si apre questo e se non l'avete installate il filtro questo è il mio filtro dell'anno scorso è ancora abbastanza pulito quindi è ancora utilizzabile si schiaccia bene dentro si chiude questa come una caffettiera e teniamo chiusa la valvolina per il momento a questo punto abbiamo questi accessori di questo questo qui andrà montato all'ingresso quindi nel più e questo nell'uscita bene vediamo che i tubi si sono riempiti l'acqua adesso per far uscire tutte le bolle l'aria andiamo ad aprire questa valvolina qua finché non vediamo uscire l'acqua ok fatta questa operazione possiamo far partire la pompa non ha interruttore va semplicemente collegata alla presa di corrente ovviamente adesso il livello è basso e quindi vediamo l'acqua ma dopo una volta che il livello sarà alto farà questo movimento qua quando la pompa in movimento andiamo a fare il trattamento quindi quale uno skimmer galleggiante come questo a cui inserisco una pastiglia di cloro insieme a questo potrà inserire il cloro si trova in pastiglie consiglio di mettere anche questo che è un anti insetti praticamente evita di far arrivare gli insetti tra cui le zanzare ma insetti in generale perché se non la mettete diventa veramente una colonia di insetti di ogni tipo sia volatili che non quindi una pastiglia di queste alla settimana di citronella elimina le zanzare e insetti fastidiosi buttiamo in acqua così allora un altro accessorio molto utile che però non è incluso nella confezione è lo skimmer che è questo accessorio qua praticamente composto da una vasca e da un cestello galleggiante anche il suo adattatore per la pompa quindi si può tranquillamente adattare alla pompa e anche questo che è il suo aggancio da mettere a bordo piscina esiste anche l'attacco per le piscine quelle gonfiabili quindi questo come va messo così attacchiamo qua e lo andiamo ad agganciare alla pompa al filtro quindi togliamo il filtro a vite e attacchiamo questo quindi l'ingresso della pompa mentre dobbiamo fare in modo che il cestello rimanga quasi a pelo d'acqua lasciando la parte azzurra galleggiante e tutto il cestello appena sotto il livello dell'acqua a questo punto possiamo accendere tranquillamente la pompa e farla partire ok a cosa serve lo skimmer praticamente tutta l'acqua tutti gli insetti le foglioline che ci sono in superficie la pompa normalmente non riuscirebbe ad aspirarle invece con lo skimmer noi riusciamo a pulire la superficie dell'acqua ecco come possiamo vedere tutte le foglie tutti gli insetti tutte le impurità che ci sono sul livello dell'acqua vengono attirate da un vortice e finiscono dentro il cestello vengono catturati dalla pompa quindi la pompa fa il suo normale lavoro di pulizia ma nel frattempo puliamo anche la superficie ok mentre la pompa è in funzione parliamo anche della qualità dell'acqua perché è molto importante tenerla sempre monitorata quindi noi abbiamo messo il cloro però è anche importante controllare puntualmente il ph che deve essere circa sui 7.2 diciamo come media come facciamo a controllarla ci sono dei test digitali ci sono millemila modi però abbiamo anche quello proprio più economico di tutti che è questo qua per esempio questo della best way è composto da delle fascette da immergere nell'acqua praticamente queste linee cosa servono a segnalare il livello di cloro il livello di ph e l'alcalinità dell'acqua come funziona semplicissima si immerge nell'acqua e si tira fuori e si aspetta qualche secondo e si confronta col grafico che c'è proprio sulla confezione adesso aspettiamo un attimo allora dicevo il cloro è buono forse un po bassino ma ci siamo quasi nella norma il ph anche lui è buono e vedete che il quadratino coincide il ph è buono la calinità anche lei è buona quindi diciamo che in questo momento l'acqua perfetta ci si può tranquillamente fare il bagno perfetta bene ad inizio stagione è normale che l'acqua sia comunque nei livelli standard a meno che non abitate in una zona che ha dei livelli dell'acqua assurdi ma diciamo che io utilizzo l'acqua del rubinetto i livelli sono buoni perché è potabile quindi non ha niente di particolare se per caso avete dei livelli un po strani o comunque con normale utilizzo così è normale che i valori del ph sbagli no come quello del cloro ci sono dei delle sostanze che sono tipo io ho comprato questi qua uno è un innalzatore e uno è un riduttore di ph praticamente servono a regolare appunto il ph con questi qua possiamo appunto giocare tra virgolette e riuscire a regolarlo e ottenere l'acqua sempre ai livelli ottimali questi qua praticamente sono in polvere di solito vanno o diluiti nell'acqua e poi buttati dentro oppure messi nello skimmer nel portacloro di come si chiama comunque sia basta leggere le istruzioni l'importante è sempre tenerli lontani dagli occhi e magari possibilmente usare i guanti perché queste comunque sono sostanze chimiche e non è proprio il massimo toccarle comunque se dovete toccare con le mani lavatevele sempre assolutamente subito le mani col sapone dopo aver usato anche quando si usa il cloro assolutamente lavarsi sempre le mani subito dopo mai toccarsi gli occhi mai avvicinare agli occhi il cloro perché brucia da matti quindi sempre attenzione al mille quando si utilizzano cloro e queste sostanze chimiche se non vogliamo lo skimmer perché notiamo che non ce ne frega niente di averlo non ci serve possiamo comunque dotarci di un retino come questo questi costano veramente una stupidata però sono veramente utili soprattutto per raccogliere insettini che si posano sull'acqua o le piccole foglie così e si raccoglie tutta questa schifezza la si butta fuori una cosa molto importante se installate la piscina in giardino e avete degli alberi vicino come nel mio caso e tenere d'occhio sempre le foglie perché le foglie quando cadono nell'acqua vengono aggredite dal cloro e si sbriciolano in poco tempo però se non raccolte subito si sbriciolano dopo diventano praticamente polvere e rendono l'acqua torbida e non è proprio un bel vedere può fare il bagno nell'acqua torbida quindi potete far andare la pompa quanto volete ma quando l'acqua diventa troppo torbida vuol dire che è tardi è comunque consigliabile anche usare un anti alghe che anche quella è una sostanza chimica che si butta dentro diluita con acqua se ne usa veramente pochissima si può usare in maniera preventiva quindi metterne una piccola dose per evitare la formazione di alghe oppure la stagione inoltrata mettiamo che l'acqua non è più limpida come una volta come all'inizio stagione allora si fa un trattamento magari un po' più invasivo ok se volete dimenticarvi della pompa comunque mettiamo caso che dovete andare in vacanza una settimana e non potete occuparvi della piscina è importante però che la pompa vada tutti i giorni almeno almeno circa tre ore al giorno fate i vostri calcoli in base al rapporto di quanta acqua riesce a pulificare all'ora in rapporto al volume della piscina questo è un temporizzatore da esterno e permette di far accendere la pompa a orario prestability e farla spegnere a orario prestability quindi praticamente io posso dimenticarmi di venire qua attaccare la pompa farla andare tornare giù spegnerla grazie a questo fa il suo ciclo da sola e ha finito la storia e fa tutto da sola la cosa importante però è sostituire i filtri regolarmente quindi questi qua si possono lavare magari ogni due tre giorni massimo per un paio di settimane possiamo anche farli durare soprattutto inizio stagione che l'acqua pulitissima durano tranquillamente un paio di settimane però dopo vanno comunque sostituiti ci sono i ricambi costano veramente una scemata ogni pompa ha il suo ricambio preciso ve lo lascio in descrizione se vogliamo mantenere la piscina pulita ne vale la spesa bene si sta facendo buio quindi riprendiamo domani con le ultime news e gli ultimi accessori utilissimi per questa piscina ok oggi c'è un po' più di sole quindi direi che si vede meglio allora ho montato la scaletta non vi faccio vedere perché praticamente è semplicissima è tutta in castro e arriva smontata ma è semplicissima da montare quindi vogliamo veramente cinque minuti ed è utilissima per entrare uscire dalla piscina soprattutto se avete bambini piccoli quindi perché comunque la sua altezza è alta circa 80 85 centimetri non è altissima però capite che non è molto comodo entrare così soprattutto appunto per i bambini quindi scaletta diciamo indispensabile un altro accessorio utile è questo qua sotto adesso lo inquadro bene questo cosa serve si riempie d'acqua come è facile intuire si sciacquano i piedi qua dentro quindi ha il suo incastro apposta per la scaletta quindi rimane molto stabile noi mettiamo qua ciabatte soprattutto se siamo in un prato comunque così è facile sporcare la piscina in questo modo noi piedi qua dentro ed entriamo in questo modo riusciamo a tenere la piscina ancora più pulita ok facciamo un riepidogo velocissimo allora abbiamo visto che montare la piscina è consigliato farla in due persone però si riesce a venire anche da soli a livello dell'acqua non deve mai superare la linea di cucitura del liner ok perché comunque anche se la riempiamo troppo dopo l'acqua tende ad uscire quindi inutile riempirla tanto quindi non mai superare questa linea io adesso ho tenuto qualche centimetro sotto possiamo riempirla ancora un pochino ma è oltre questa linea comunque ho messo del talco qui per non far incollare il tessuto alla struttura pompa che abbiamo visto è consigliabile far andare tutti i giorni questo che io chiamo porta cloro non so se chiamarlo schimber o quello comunque questo è un accessorio che trovate a parte scaletta assolutamente indispensabile lavapiedi altre cose indispensabili sono il controllo del cloro del ph come questo riduttore ed elevatore di ph per tenere monitorato il livello e la qualità pastiglie di anti insetto queste qui vanno messe nello skimmer nel galleggiante ne basta una settimana di solito aiutano a tenere lontane le zanzare gli insetti i filtri di ricambio che questi qua materiali di consumo quindi se non è ogni settimana ma ogni due o tre va cambiato il retino anche questo non dico indispensabile ma indispensabile perché va bene la pompa va bene lo skimmer ma con questo si fa molto più in fretta a togliere le foglioline e poi se proprio vogliamo fare i fighi allora compriamo anche questo skimmer qua e non è proprio indispensabile per vivere però mi ha facilitato molto perché io ho vicino degli alberi quindi la superficie si riempie sempre di foglie con questo riesco a tenerla molto più pulita rispetto che far funzionare la pompa così perché la pompa pulisce il fondo dell'acqua lo skimmer pulisce la superficie bene il video è terminato spero che sia stato utile e interessante fatemelo sapere nei commenti se così è stato in descrizione trovate il link alla piscina e a tutti gli accessori che gli ho fatto vedere utili o meno utili comunque trovate tutto in descrizione se volete acquistare qualcosa una cosa che non avete visto è il telo di copertura che non mi è ancora arrivato che consiglio fortemente perché aiuta anche quello a tenere la piscina pulita in più fa da serra quindi riesce a scaldare l'acqua tiene l'acqua a una temperatura più gradevole quindi anche quello lo trovate in descrizione io adesso vado a mettermi il costume però intanto vi invito a iscrivervi al canale quindi mentre vi faccio il bagno voi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video buona notata